Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Garcini. Iniziamo dalla 11 dove ci sono ancora codea tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Spostandoci in a 1 in direzione Bologna a tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncobilaccio. Sempre verso Bologna rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per lo stesso motivo ci sono rallentamenti in direzione Roma tra Aglio e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. Si ricorda che per giovedì 16 dicembre è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico. A Firenze il servizio della tramvia potrebbe subire ritardi o cancellazioni di corse che saranno garantite in queste due fasce orarie 6.30, 9.30 e 17.20. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!